Anche lei chiedo perché è importante la informazione della TV pubblica per un referendum di questo tipo? Beh, è importantissima perché innanzitutto la TV pubblica dovrebbe tener conto che il 22 ottobre vanno a votare circa 12 milioni di elettori, per cui un numero rilevante dei cittadini lombardi ma anche italiani. Per cui se una TV pubblica si rifiuta di fare un servizio pubblico che è quello del proprio DNA, probabilmente qualche problema l'abbiamo. Io mi auguro che la RAI riveda ovviamente queste scelte e mi auguro che nei prossimi giorni anche gli spot di Lombardia, il referendum per la Lombardia Autonoma possa andare su una TV pubblica e non su quelle solamente private a pagamento. Non dimentichiamo che la RAI viene pagata anche da quei 12 milioni di cittadini lombardo-veneti che il 22 ottobre saranno chiamati a votare.